Rapporti e contatti con i fornitori del territorio della provincia di Napoli delle aree a confine con l'agro ed internazionali con l'Olanda, luogo di transito abbastanza frequente e di sostanze stupefacenti. E' il quadro che emerge dalle indagini della procura di Salerno nell'operazione My Love che ha portato stamani i carabinieri a sgominare due pericolosi organizzazioni criminali dedicate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sì ma sull'agro cino sarnese stiamo ovviamente svolgendo un'attività di monitoraggio abbastanza come dire costante cercando di ricostruire quelli che sono come dire i macro fenomeni criminali nell'ambito dei quali si inseriscono anche vicende come quelle di cui oggi ci siamo occupati. questo ovviamente è una cosa che richiede un po' di tempo. Minori anche bambini fino anche di sei anni utilizzati dal sistema? Minori di età inferiore anche ai 14 anni. Nel caso c'è stato anche un caso che abbiamo segnalato alla procura dei minori. Quelli di età inferiore ai sei anni erano semplicemente figli di una delle persone dedicate al traffico e stupefacenti. anche questo è un fenomeno abbastanza frequente. Evidentemente diciamo chi non si cura come dire della formazione del minore però è capace di utilizzarlo perché in quanto persona meno sospetta diciamo può sfuggire a quelli che sono i controlli delle forze di poesia sul territorio ma anche queste sono cose abbastanza frequenti oramai. Troppi processi pendenti nel distretto di Salerno per il traffico di droga che sarebbero compatibili con un'affermazione che porterebbe a definire la città capoluogo come capitale mondiale della droga. Un'asserzione esagerata per il procuratore della Repubblica di Salerno Giuseppe Borrelli che stamani nel corso della conferenza stampa ha dichiarato un suo impegno per accelerare i procedimenti in corso. In realtà questo deve essere innanzitutto un impegno della procura perché i processi poi si fanno anche perché vengono preparati adeguatamente da parte della procura della Repubblica. Certo è che nel distretto di Salerno esistono troppi processi pendenti per traffici di sostanze stupefacenti. C'è un numero di processi pendenti che in qualche maniera sarebbe compatibile con una visione di Salerno come capitale mondiale della droga cosa che francamente mi pare esagerata. Quindi è evidente che questi processi vengono fatti e devono con il concorso di tutti essere anche portati a compimento anche perché voglio dire altrimenti sono destinati a giacere senza mai trovare una loro conclusione. Questo ovviamente sarà innanzitutto un impegno della procura fare quello che è necessario fare perché questo possa avvenire. Grazie a tutti.